Ciao copywriters e benvenuti in questo video. Intanto vi auguro buon sabato e oggi voglio parlarvi di una pillola di copywriting di persuasione che vi aiuterà ad avere più vendite così come ha aiutato me. Allo stesso tempo questo suggerimento vi permetterà di rimanere, di mantenere l'integrità del vostro personaggio così come desiderate. Cos'è? Qual è il discorso? Che molto spesso vogliamo applicare le tecniche di copywriting però sentiamo di doverlo fare in maniera forzata magari anche arrivando a mentire pur di utilizzare una certa tecnica della scarsità dell'offerta che sta scadendo e così via. Ho voluto invece applicare una tra virgolette tecnica che mi ha permesso di vendere, di avere risultati molto elevati, molto importanti ma allo stesso tempo mantenendo quella che è l'integrità del mio personaggio. Dopo l'acquisto di un mio prodotto principale ho creato una auto, cioè un'offerta unica che andava acquistata e poteva essere acquistata solamente in quel momento dopo l'acquisto, altrimenti sarebbe andata persa. Invece di dire come al solito questa è un'offerta unica che puoi avere solo in questo momento, ho deciso di applicare appunto questa tecnica che io chiamo la tecnica della sincerità. Semplicemente nel video che dicevo che questa offerta era di beneficio sia al lettore che stava acquistando il prodotto in quel momento sia a me come venditore. Quindi il passaggio chiave fondamentale era proprio il fatto che davo una motivazione, una motivazione sincera del perché era il momento giusto di acquistare quell'offerta. Infatti dicevo tu avrai la possibilità di prendere questo prodotto ad un prezzo a cui altrimenti non avreste avuto accesso, ma io allo stesso tempo ho la possibilità di aumentare il valore medio per ogni transazione del mio funnel, quindi il valore medio che ha ogni cliente all'interno del mio funnel. Quindi è una cosa che come vedi beneficia sia te che puoi avere questo prodotto ad un prezzo mai visto, sia me perché mi permette di guadagnare di più e di avere più soldi da investire nelle ads. Semplicemente aggiungendo questo piccolo spunto, questo piccolo tocco di sincerità e dicendo qual è il mio beneficio anche, non solo quello del lettore, la vendita è risultata più naturale, più spontanea, più sincera. La persona si fida di me e a questo punto questo spiega anche perché i risultati di questa auto arrivano a toccare quasi il 100% di conversioni. Quindi assolutamente ti consiglio quindi nel tuo prossimo copio, nel tuo prossimo video di aggiungere quel tocco di sincerità che fa dire al lettore, wow allora questa persona non sta semplicemente vendendo, è una persona reale, anche lui ha delle motivazioni, anche lui ci guadagna qualcosa, evidentemente è una persona sincera e mi posso fidare. Se questa pillola ti è piaciuta lasciami un mi piace, anche un commento mi farebbe molto piacere. Io ti auguro un buon sabato e ci vediamo al prossimo video. Ciao da Marcello. Grazie.